Quando degustiamo un vino per prima cosa guardiamo il colore e quindi usiamo la vista, poi ne annusiamo gli aromi grazie all'olfatto e poi ne apprezziamo i sapori col gusto e infatti si dice degustare. Ma avete mai fatto caso che in un certo senso usiamo anche il tatto? Quello all'interno della bocca ovviamente. È questo che ci fa sorseggiare un bicchiere di vino, conoscendolo fino in fondo. Sapere numerosi dettagli riguardo alla sua morbidezza può rendere la nostra esperienza ancora più esaltante. Ma che cos'è la morbidezza del vino? Secondo alcuni la morbidezza è legata alla quantità di zuccheri, diventando così di fatto un sinonimo di dolcezza, mentre per altri a determinare questa importante qualità organolettica intervengono anche alcol e glicerina, che in questo caso sarebbe meglio chiamare glicerolo. Ma mentre la dolcezza è una semplice sensazione gustativa, la morbidezza comporta la percezione, oltre che del gusto dolce, anche di sensazioni tattili provocate da alcol e dal glicerolo. La morbidezza è quindi l'unione tra queste percezioni gustative e tattili. La sensazione tattile si sviluppa attraverso l'interazione di alcune sostanze presenti nel vino con i recettori tattili della cavità orale. In bocca la sensazione della morbidezza si percepisce chiaramente al centro della lingua, sulle pareti interne delle guance e sull'arcata palatale. Anche la mucosa gengivale partecipa, seppure in modo più marginale, alla percezione delle sensazioni tattili. Tuttavia va ricordato che questa è maggiormente sensibile agli effetti della stringenza dovuta ai tannini. Pensate di sciogliere in bocca un pezzettino di burro. Quella è la sensazione che dobbiamo andare a cercare quando degustiamo un calice di vino. Non appena inizi ad assaggiare un qualsiasi vino puoi renderti conto della sua morbidezza. Più che di una semplice caratteristiche si tratta di una vera e propria sensazione vellutata. È positiva, se il vino contiene alcolicità e struttura, con quella giusta iniezione di calore nel tuo palato. Diventa negativa invece, in caso contrario, rendendo il vino abbastanza pastoso. D'altronde si dice spesso che bere un buon vino è un'esperienza tutta da vivere, il risveglio di uno stimolo gustativo che avviene fin dal primo momento. Ti bastano solo pochi secondi di degustazione per accorgerti di quanto un vino possa essere morbido o meno. E come si valuta il tasso di morbidezza del vino? Tutto dipende dalla concentrazione di polialcoli che vengono generati durante le varie fasi della fermentazione alcolica e scaturiscono dall'equilibrio tra gli acidi, i tannini e la sapidità. Il già citato glicerolo è senz'altro il polialcolo più diffuso e in genere in un vino ha valori compresi tra i 5 e i 18 grammi per litro. E' quello che rende i vini passiti estremamente eleganti e raffinati. In base alla loro morbidezza, i vini potrebbero essere divisi in cinque livelli. Spigoloso, quando la morbidezza è totalmente assente. Poco morbido, quando la morbidezza è appena percepibile. Abbastanza morbido. Oppure morbido, dove le sensazioni di velluto, di rotondità, sono ben presenti richiamando la frutta dolce. Invece il vino diventa pastoso quando l'eccessiva morbidezza può diventare sgradevole, a meno che non stiamo degustando un vino da uve passite. Le sostanze morbide si contrappongono a quelle dure con lo scopo di determinare il giusto equilibrio, che si differenzia in base allo stile specifico del vino e alle sue caratteristiche peculiari. Nei vini rossi, per esempio, si deve tenere in considerazione anche la presenza dei tannini, responsabili delle sensazioni di astringenza e che comunque trovano equilibrio nelle sostanze morbide. Bisogna anche dire che esistono tannini morbidi e tannini aggressivi. Una morbidezza eccessiva diventa negativa se non è equilibrata rispetto agli altri aspetti gustativi di un vino, mentre è positiva in caso dei vini passiti. Il concetto di morbidezza è inoltre legato al tipo di vitigno. Ci sono infatti vitigni morbidi per natura, tipo il merlot o il primitivo, che perdendo parte della loro morbidezza perderebbero contemporaneamente anche la loro tipicità. In altri casi invece, tipo per il Sangiovese, la morbidezza sarebbe completamente fuori luogo, visto la caratteristica ruvida tipica del vino, che però ritroviamo nel governo all'uso toscano, data non dal vitigno sangiovese ma dalla tecnica di produzione antica. È ovviamente una questione di gusti, poiché per alcuni l'evidente gusto acido o il carattere astringente dei vini è una qualità apprezzabile. Spesso un vino molto morbido può essere sinonimo di alta qualità, secondo a buona parte i produttori, che devono sempre sapersi adattare al gusto dei consumatori e sacrificano il reale carattere di un vino con l'unico scopo di soddisfare certe tendenze di mercato. Altri invece penalizzano i vini con evidente carattere di morbidezza, sia perché questi sono associati al cosiddetto gusto internazionale, sia per l'attuale tendenza verso vini nei quali l'acidità è maggiormente evidente. Alla fine è come per i materassi e i cuscini, ognuno ha le sue preferenze, ma le vostre quali sono?